Bene, buon pomeriggio a tutti, sono molto felice di essere a Pistoia nuovamente, ci sono venuto già diverse volte, tutte le volte che sono venuto ho preso la multa, questa volta spero di non prenderla, questo è il primo pensiero che ho avuto entrando qua. I beni comuni sono diventati una delle parole chiave dell'essico politico nel nostro paese e questo negli ultimi 4-5 anni e questo spiega anche il perché un festival così importante come i Dialoghi sull'Uomo si è dedicato a questo tema. Un tema che fino a 5-6 anni fa non esisteva proprio, si sarebbe detto beni comuni chi o beni comunicosa, secondo le note battute che vengono fatte. Io mi sono avvicinato a questa tematica dapprima in modo professionale, da giurista, da studioso, interessato all'analisi economica del diritto, quindi allo studio del diritto e dei suoi rapporti con l'economia e naturalmente in quell'ambito dopo una prima parte degli anni 80 in cui i principali studiosi dell'economia soprattutto negli Stati Uniti avevano optato per scelte largamente liberiste e fondate su assunti di totale irrilevanza delle istituzioni giuridiche dello Stato mi sono poi imbattuto nei lavori dei cosiddetti neoistituzionalisti che erano una corrente di pensiero che negli Stati Uniti si è sviluppata a seguito dei lavori di Ronald Coase, di Oliver Williamson, di Douglas North e tutta una serie di altri studiosi i quali avevano cominciato a studiare le grandi questioni economiche dicendo institutions matter, le istituzioni hanno un ruolo, sono importanti, importano, matters significa questo e hanno provato a ricostruire un po', a rivisitare una parte delle teorie dell'economia contemporanea alla luce degli assetti istituzionali e studiando queste cose naturalmente hanno sviluppato tutta una serie di teorie sulle quali non ho né competenza né interesse a intervenire adesso ma fra coloro che si erano avvicinati all'economia in quel periodo storico c'era stata una sociologa molto importante, Elina Rostrom scomparsa l'anno scorso, scomparsa da poco, la quale scrisse una serie di lavori prima e poi dopo un libro estremamente fortunato che era stato un po' il primo libro che ha tracciato una teoria economica dei beni comuni il libro della Ostrom io l'ho incontrato studiando diciamo quelle tematiche quindi venendo dall'esperienza mia di studio negli Stati Uniti ma quello non era certamente il solo luogo nel quale di beni comuni si parlava perché se si esce dall'esperienza accademica e ci si avvicina alle esperienze delle lotte sociali che sono estremamente importanti di beni comuni si incomincia a parlare soprattutto con l'insurrezione del Chiapas a metà degli anni 90 quando il subcomandante Marcos, lo ricorderete dettava le linee di un tentativo di ripensamento degli assetti istituzionali che governavano la vita dei campesinos cercando di liberarli da due elementi istituzionali forti che le stavano stritolando da un lato naturalmente lo stato, lo stato messicano autoritario, corrotto, violento proprio anche in queste giornate mentre stiamo parlando il Chiapas è nuovamente sotto attacco l'esperienza di governo istituzionale dei beni comuni di istituzione dei beni comuni di cui parleremo che il tema un po' di questa chiacchierata è di nuovo sotto attacco proprio nel Chiapas quindi da un lato lo stato e dall'altra il settore privato le grandi multinazionali dell'agrobusiness le quali tenevano in qualche misura sotto scacco le istituzioni dello stato e insieme stritolavano l'esperienza di vita comunitaria di quei villaggi villaggi che reagiscono, insorgono e insorgono con al centro al cuore una teoria che è la teoria per l'appunto che oggi conosciamo come la teoria dei beni comuni la visione di un rapporto differente tra l'individuo e la terra tra l'individuo e la natura il rivendicare spazi importanti di coesione sociale a livello di comunità di villaggio insomma cercare una vita come dire, meno legata al progetto di sviluppo estrattivo della modernità e più legata viceversa al recupero di tradizioni locali più maggiormente sostenibili quindi diciamo che fino alla tutta l'ultima parte del secolo scorso i beni comuni erano da un lato un elemento di studio principalmente economico negli Stati Uniti e dall'altra un obiettivo politico che conoscevano però in realtà soltanto quelli che si avvicinavano davvero che studiavano i movimenti sociali che conoscevano un po' quelle esperienze ma non era certamente una categoria una categoria diffusa nell'essico politico ordinario diciamo come oggi poi in Italia che cosa succede? succede che con l'inizio degli anni 90 entriamo in un periodo di drammatica ideologia delle privatizzazioni si cambia radicalmente la visione dominante del diritto pubblico e dello Stato e le principali correnti di pensiero costruiscono una teoria la cosiddetta teoria dello Stato regolatore ai sensi della quale lo Stato, le istituzioni pubbliche non avrebbero dovuto svolgere alcun ruolo attivo nell'economia ma avrebbero dovuto semplicemente osservare la competizione fra soggetti privati fra i soggetti economici che dovevano restare privati garantendo le regole del gioco il cosiddetto Stato regolatore una visione dello Stato come fosse un po' l'arbitro di tennis che guarda che le regole siano rispettate e il gioco della produzione economica viene messo nelle mani dei privati la teoria dello Stato regolatore è una teoria che ha un impatto enorme a livello accademico non soltanto in Italia proprio perché lo Stato attore dei processi economici lo Stato imprenditore aveva dato in gran parte cattiva prova di sé non ovunque non in tutti i settori perché esistevano dei settori dell'economia nel quale a partire dagli anni 50 fino agli anni 70, 80 compresi lo Stato imprenditore aveva avuto dei risultati straordinari pensate che so io le moto Ducati tanto per dare un esempio di innovatività e ricerca importante da parte del settore pubblico ma sicuramente in altri settori soprattutto settori a valore aggiunto più ridotto dove meno necessaria era la concentrazione di capitale per la ricerca il ruolo dello Stato era stato piuttosto deprimente non era un bravo produttore di marmellate lo Stato non era tanto bravo a fare i biscotti impacchettava male i pomodori pelati insomma quel tipo di attività lì si riteneva che non fosse un'attività che dovesse fare lo Stato direttamente che fosse meglio che in qualche modo fossero dei privati a portarla avanti comunque sull'onda di queste teorie e dello Stato regolatore diventano molto legittime in Italia le prime grandi proposte di privatizzazione proposte di privatizzazioni che hanno anche qui un successo straordinario nella prima parte degli anni 90 fino al 94 con i primi governi tecnici l'Italia privatizza privatizza più di qualsiasi altro paese dell'Occidente privatizza di più di quanto avesse fatto la signora Thatcher privatizza 140 miliardi di dollari di asset pubblici in quattro anni una cifra molto importante quando si parla quando si parla di quegli ordini di soldi lì è molto difficile in realtà misurarli però per farvi un esempio di che ordine di soldi stiamo parlando è la privatizzazione più importante di qualunque paese dell'Occidente a fronte di noi abbiamo l'anno scorso pagato interessi sul nostro debito pubblico dell'ordine dei 90 miliardi di euro quindi stiamo parlando di cifre molto importanti dal punto di vista in assoluto cifre che però se compariamo con quello che è il servizio al debito pubblico sono certo importanti ma se noi abbiamo un debito di alto e vendiamo tutto quello che abbiamo e riusciamo a coprire appena gli interessi di un anno e mezzo voi vedete che qualcosa non funziona in quel tipo di politica resta il fatto che queste privatizzazioni vengono fatte che per 15 anni a livello accademico in Italia è impossibile mettere in discussione le privatizzazioni privatizzazioni e liberalizzazioni sono davvero diventano il pensiero forte all'interno del mainstream accademico sul piano economico sul piano giuridico sul piano politologico chi provasse a dire ma è stata poi una buona idea chissà questo pubblico se davvero merita di essere smantellato in questo modo era completamente marginalizzato in quell'ambito lì però a partire dal 2005-2006 si incomincia io insieme ad altri ho incominciato a fare uno studio in un'importante istituzione italiana che è l'Accademia Nazionale dei Lincei cercando di vedere che cosa che cosa succedesse di queste privatizzazioni una volta venduti questi beni una volta che queste aziende di Stato non sono più aziende di Stato una volta che questi 140 miliardi sono stati sostanzialmente incassati che ne è del modo in cui queste aziende sono governate che ne abbiamo fatto di quei soldi ha avuto senso fare questa cosa insomma un lavoro come dire di umile controllo di quello che è stato fatto che è una cosa di gran buon senso fare perché naturalmente dopo 15 anni 10-15 anni tu vuoi sapere come sono andati a finire e i dati che noi abbiamo raccolto soprattutto lavorando anche dal punto di vista comparativo con esperienze francesi esperienze inglesi esperienze tedesche eccetera ci hanno dato dei risultati davvero terribili a seguito dei processi di privatizzazione molto poche cose erano andate bene i prezzi dei servizi e dei beni erano invariabilmente aumentati insieme all'aumento dei prezzi dei servizi e dei beni erano aumentati drammaticamente i compensi dei manager insieme ai compensi dei manager erano aumentati drammaticamente i budget per la pubblicità budget della pubblicità che vengono utilizzati naturalmente al fine di come dire non vorrei usare una parola forte come corrompere ma certamente di influenzare pesantemente di influenzare pesantemente il sistema mediatico il sistema culturale nel senso che ovviamente se una grande azienda ha molti soldi per spazi pubblicitari sui giornali in televisione ha sicuramente una grande capacità di persuasione di una serie di persone che di spazi di spazi mediatici vivono che sono sostanzialmente i politici professionisti o una parte di questi e quindi questa sorta di sistema di privatizzazioni lungi dal produrre come dire un efficientamento di quei servizi poi si possono fare tanti esempi magari in fase di discussione li possiamo vedere aveva avuto un risultato di ibridazione se vogliamo del pubblico e del privato di crollo di quelle barriere stagne che noi avevamo sempre teorizzato ipotizzato fra pubblico e privato che in realtà si vedeva molto nettamente come fossero delle barriere puramente ideologiche non fossero più in realtà delle come dire delle separazioni teoriche forti una cosa è il pubblico una cosa è il privato ma questa sorta di processi di privatizzazione fortemente assistite dal sistema pubblico avevano finito per creare un grande un grande pasticcio che oggi chiamiamo nella teoria economica anche a livello internazionale le cosiddette revolving doors cioè le porte le porte girevoli la scarsa separatezza sostanzialmente tra quello che è il ruolo di colui che si dedica all'amministrazione pubblica e di colui che invece si dedica al governo al governo al governo dell'economia quei dati raccolti voglio fare una cosa breve ci avevano portato a cercare di porre una domanda ossia come è possibile che si fossero venduti beni anzi svenduti beni per di quell'importanza per quella quantità di soldi tutto sommato limitata rispetto all'enormità del settore pubblico che era stato effettivamente effettivamente privatizzato senza che esistesse alcun regime giuridico volto a verificare questi processi di privatizzazione tanto per darvi un esempio che non sembri una cosa astratta fra le cose vendute in quegli anni nel 94 per esempio quindi nel pieno degli anni 90 nei quali non soltanto in italia ma a livello globale l'occidente passava una grande fetta del proprio tempo a contemplarsi davanti allo specchio a considerarsi la fine della storia al meglio che l'umanità potesse raggiungere quindi una fase di forte narcisismo della visione occidentale fortemente etnocentrica ecco nel 94 un'azienda viene privatizzata fra i tanti fra questi pacchetti ed è l'Italsider di Taranto Italsider di Taranto che un anno prima era stata dichiarata azienda ad alto rischio ecologico quindi eravamo già in una situazione molto complessa dal punto di vista dell'impatto sull'ecosistema dell'Italsider l'Italsider viene privatizzata l'anno dopo per una cifra davvero modestissima per 700 milioni di euro che è una cifra veramente molto bassa per un'acciaieria che era all'epoca la prima acciaieria d'europa con 12.000 12.000 dipendenti e un impatto ecco un'estensione di due volte e mezzo la città di Taranto insomma una roba una roba immensa che viene venduta con l'idea fondamentale che vabbè la privatizzo e il privato risolverà il problema questa idea sostanzialmente che era prevalsa siccome il pubblico non sa fare niente proviamo a darla al privato che le cose verranno effettivamente risolte che si dice anche in modo meno accademico e meno paludato buttar via il bambino con l'acqua sporca ecco fra queste fra queste cose che erano state fatte che erano state fatte in questi anni erano tutte state fatte senza nessuna possibilità di discussione giuridica su queste tematiche e questo era un dato che colpisce moltissimo e che dovrebbe preoccuparci non dobbiamo preoccupare soltanto gli studiosi del diritto che se ne sono preoccupati in quegli anni lì 2005-2006 che hanno poi portato in qualche modo all'emergere di questa tematica dei beni comuni a livello nazionale ma dovrebbero preoccuparci tutti quanti oggi perché tanto per fare un esempio nulla è cambiato da questo punto di vista è ancora vero che possono essere condotte privatizzazioni anche estremamente importanti di asset fondamentali per la stessa sovranità del paese senza nessuna possibilità per chi che sia di mettere in discussione giuridicamente la scelta settimana scorsa sono stati sui giornali uscito per un giorno con una notizia molto edulcorata parlando di azionariato popolare per rendere le cose particolarmente attraenti e particolarmente democratiche ma di fatto si sono messe sul mercato metà delle poste italiane e metà di Enav che è l'azienda che gestisce gli spazi di slot aeroportuali che è uno degli asset più importanti che noi avevamo studiato proprio nella ricerca ai dincei e che avevamo chiamato proprio per darvi l'idea dell'importanza di queste tematiche beni pubblici sovrani cioè quei beni pubblici senza i quali uno stato non è in grado di esercitare la propria sovranità perché se uno stato non controlla i propri spazi aerei voi capite bene che si trova in una situazione veramente molto molto delicata da questo punto di vista ebbene tutto questo è avvenuto dieci giorni fa senza che ci fosse nuovamente alcun dibattito pubblico e allora la questione che era sorta allora come oggi ai tempi dei nostri studi dell'accademia dei lincei era come potrebbe essere fatto e come dovrebbe essere fatto un sistema giuridico che si fa carico di questi problemi in altre parole l'esempio è banale ma se lo stato espropria una proprietà privata a chiunque di voi una piccola casetta per costruire un ospedale piuttosto che per far passare una ferrovia deve avere un'autorizzazione della legge per farlo ci vuole la cosiddetta riserva di legge deve dimostrare la pubblica utilità del processo quindi se ti toglie la casa deve dire ma io te la sto togliendo non per darlo un mio amico ma perché c'è un disegno di pubblica utilità nell'altro progetto che facciamo che sui un ospedale piuttosto che una ferrovia e deve riconoscere un indennizzo indennizzo che oggi è stimato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo a valore di mercato quindi stiamo parlando di una protezione molto forte della proprietà privata nei confronti quando viene trasferita in mani pubbliche ebbene invece quando la proprietà pubblica viene trasferita in mani private come nell'ipotesi delle privatizzazioni ne ho fatte due prima ma ne possiamo fare finché ne vogliamo non esiste nessuna di queste garanzie non esiste una richiesta di riserva di legge i beni pubblici possono essere sdemanializzati con un puro decreto ministeriale le vendite che sono state fatte proposte nei giorni scorsi sono avvenute a livello di decreti ministeriali perché i ministeri già controllano già detengono parte del patrimonio azionario di questi soggetti che sono stati tutti trasformati in società per azioni e questa è poi la grande partita del referendum sull'acqua di cui parliamo di cui parliamo tra un attimo quindi non c'è riserva di legge non c'è nessuna necessità di dimostrare la pubblica utilità di quello che si sta facendo il governo in carica decide di privatizzare e privatizza senza che nessuno gli possa dire ma perché lo stai facendo e soprattutto non c'è nessun indennizzo in capo a quelle comunità che perdono quei beni che siamo tutti noi cioè quei soldi che vengono sostanzialmente ottenuti vendendo un patrimonio che ci appartiene a tutti quanti vengono messi a spesa corrente vengono utilizzati normalmente per che cosa indovinate per il servizio del debito per il servizio del debito questo è quello che avviene in modo dichiarato o non dichiarato sostanzialmente a seguito di queste di queste privatizzazioni allora voi capite che questo presenta uno sbilanciamento giuridico istituzionale molto grave perché non c'è quell'uguaglianza formale tra proprietà private e proprietà pubblica che pure nella costituzione italiana è garantita perché l'articolo 42 prima comma della costituzione esordisce con una formula di importanza fondamentale dal punto di vista istituzionale e costituzionale che quella di dire la proprietà è pubblica o privata cosa che pare una tautologia oggi sappiamo che non è una tautologia perché esistono anche i beni comuni ma nel 48 questa sensibilità non c'era sembrava una tautologia ma non era una tautologia perché quello era il presupposto fondamentale della scelta della costituzione economica italiana un sistema un sistema che non può essere né soltanto un sistema con i beni di produzione socializzati cioè non potrebbe il socialismo sarebbe incostituzionale secondo lo schema del 48 ma nello stesso tempo non può essere soltanto un sistema fondato sulla proprietà privata cioè le privatizzazioni estreme sarebbero e sono a loro volta incostituzionali cioè la scelta di dire ci sono tutti e due i tipi di proprietà e la garanzia del cosiddetto del cosiddetto sistema economico sistema economico misto sistema economico misto che sta molto bene in costituzione ma che non si è tradotto in nessun modo in assetti giuridici capaci di difendere di difendere i beni pubblici in quel quadro parte la riflessione in Italia sui beni pubblici il governo Prodi stiamo parlando adesso già del 2007 istituisce una commissione in capo al ministero di grazia e giustizia all'epoca al ministro da Mastella quindi una commissione estremamente come dire certamente non una commissione sbilanciata politicamente una commissione che davvero stava copriva tutto l'arco costituzionale così come era configurato allora e questa commissione diventa abbastanza nota col nome del suo presidente che era il professor Stefano Rodotà che avete sentito parlare probabilmente ieri e si chiama la cosiddetta commissione Rodotà commissione Rodotà che aveva come scopo quello di riformare le parti del codice civile che governano i beni pubblici creando delle norme capaci in qualche modo di introdurre dei principi di governo di questi processi cioè si ritiene che questi fossero processi talmente importanti da necessitare un qualche tipo di risistemazione dell'impianto giuridico al fine di renderli giustiziabili cioè al fine in altre parole di recuperare la possibilità di accedere alle corti e di sottoporre a controllo giurisdizionale scelte che non possono essere mantenute soltanto e puramente nell'arbitro del potere politico in carica perché il potere politico in carica non è garanzia dell'interesse di tutti i cittadini ma in realtà è espressione di una parte politica molto spesso minoritaria con l'attuale assetto quindi questo era come dire il disegno nell'ambito dei quali poi dei lavori della commissione Rodotà che va avanti per un anno e mezzo io ebbi un'esperienza partecipai ero vicepresidente in quell'occasione quindi imparai moltissime cose perché lavorai vicino a un giurista in signe come Stefano Rodotà con altre persone di grande qualità e finimmo il nostro lavoro con un processo di riforma con un progetto di riforma una legge delega la quale conteneva sostanzialmente per la prima volta in un paese occidentale una definizione di beni comuni i beni appartenenti i beni pubblici venivano in qualche modo raggruppati in delle categorie differenti e si riconosceva che la statualità che l'appartenenza allo stato come proprietà privata cioè uno stato proprietario di beni che gestisce come un privato non è un buon curatore di beni comuni i beni comuni sono quelli che appartengono a tutti sono a titolarità diffusa possono essere sia in proprietà privata che in proprietà pubblica ma devono essere funzionali al soddisfacimento di bisogni fondamentali della persona e delle collettività anche tenendo conto degli interessi delle generazioni future quindi prendendo in considerazione come dire una vera e propria inversione di tendenza rispetto a quella visione tipica del costituzionalismo liberale ai sensi della quale il mondo si esaurisce in questa grande bipartizione pubblico privato laddove il privato è la proprietà privata e il pubblico è lo stato tra la proprietà privata e lo stato nulla c'è a partire dalla rivoluzione industriale per tutto il periodo diciamo della costruzione della giuridicità illuminista ecco che oggi si sente il bisogno di emanciparsi rispetto a questa visione fortemente ideologica per cui il pubblico è lo stato il privato è la proprietà privata e in mezzo non c'è nulla quando i ragazzi entrano nella facoltà di giurisprudenza vengono instradati prendono i corsi di diritto privato i corsi di diritto pubblico sono due mondi completamente diversi sono professori che studiano cose diverse che non si parlano non si conoscono pubblicano su diverse riviste è come se facessero delle cose differenti in realtà sono giuristi che si occupano esattamente delle stesse cose ma in prospettive disciplinari e l'idea della disciplina è molto chiara ti disciplino dentro determinati confini oltre i quali non puoi andare altrimenti trascendi quelli che sono i tuoi spazi disciplinari ossia sei un indisciplinato ed essendo un indisciplinato sei un personaggio potenzialmente sovversivo di quelli che sono gli equilibri in qualche modo dominanti una volta si parla di disubbidienti ecco questa immersione giuridica dei beni comuni sarebbe rimasta sicuramente nell'ambito degli addetti ai lavori doveppure ha fatto dei progressi molto importanti perché oggi non c'è rivista giuridica nella quale non appaiano discussioni anche molto importanti sui beni comuni in vari ambiti la corte di cassazione italiana con una decisione storica del 2011 ha riconosciuto i beni comuni come categoria ordinante del nostro ordinamento giuridico anche senza che il legislatore abbia mai fatto passare il progetto di legge della commissione Rodotà ma il come dire la giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato sicuramente moltissimo moltissimo in quella in quella direzione la bibliografia giuridica sui beni comuni oggi è sterminata vengono date moltissime tesi di laurea insomma è diventato un tema importante sia a livello nazionale che a livello internazionale partendo però da quest'angolo molto tecnico il momento in cui la cosa è diventata politica è stato col referendum dell'acqua e anche lì il referendum dell'acqua ha avuto una genesi particolare ma certamente il referendum dell'acqua è stato dettato in gran parte da un moto di scandalo di taluna di noi quando nel parlamento italiano esattamente lo stesso giorno nel novembre del 2009 da una parte veniva presentato il progetto di legge della commissione Rodotà che veniva incardinato come si dice nel gergo parlamentare quindi veniva messo come dire in strutturato per l'inizio del processo di decisione da una parte veniva fatto questo il senato dall'altra parte alla camera lo stesso giorno passava con la fiducia il famoso decreto ronchifitto decreto ronchifitto che oggi sembra storia remota ma semplicemente voleva obbligare alla messa a gara la privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali a data certa entro il 31 di dicembre del 2011 quindi sostanzialmente dando come dire il colpo finale a quella grande fetta di beni pubblici ancora esistenti giusto per darvi dei numeri perché poi è bene sempre essere molto concreti in Italia oggi ci sono tra i 2700 e i 4200 aziende 100% pubbliche che gestiscono i servizi economici più vari dalle farmacie alle aziende dei trasporti agli asili agli acquedotti alle compagnie elettriche insomma c'è tutto un aggregato molto importante di attività economica condotta e portata avanti effettivamente dal pubblico per valori stimati e sono dati stimati dal fondo monetario internazionale quindi di persone che come dire se ne intendono e portano questi dati a chi? ai cosiddetti investitori no? quelli che hanno la bavetta alla bocca che dicono ah vediamo un po' che cosa c'è di valore da andare a prendere ecco il valore stimato di queste cose che ancora sono le cose nostre come si dice è di 700 miliardi di euro quindi noi abbiamo sostanzialmente come collettività beni pubblici collettivi attività economiche cose che valgono che hanno un valore di mercato dell'ordine di 700 miliardi di euro che sono la vera partita che è stata in qualche modo persa dai poteri globali più interessati a queste operazioni con il decreto con il referendum sull'acqua ma che è una partita ancora assolutamente aperta assolutamente aperta perché il cambiamento culturale che abbiamo in qualche modo prodotto in questo paese col referendum e che fa sì che molte persone comincino a occuparsi di questi problemi non ha scalfito minimamente le direzioni della politica dominante a livello europeo europeo a livello italiano e anche a livello internazionale in tutto l'occidente quindi stiamo parlando di un rischio costante che questi beni finiscano sostanzialmente impacchettati in vario modo incassati da quei grossi attori globali che fanno shopping che sono anche alcuni di questi hanno dei nomi molto spaventosi i cosiddetti fondi a voltoio i fondi a voltoio cosa sono i fondi a voltoio sono questi fondi più o meno sovrani che girano un po' vedono dove le cose vanno male e dicono se non arrivo io te lo compro ti metto tutto a posto se voi vi fate una passeggiata non dico in Grecia ma sulle coste portoghesi e purtroppo anche in pezzi del nostro sud Italia vedete benissimo che cosa stia succedendo a causa della recessione a causa della crisi economica che fa sì che le persone semplicemente non abbiano più la possibilità di mantenere gli immobili questi immobili degradano terribilmente e diventano l'obiettivo primario di questo genere di operazioni questo sta avvenendo sotto gli occhi di tutti d'altra parte noi abbiamo questi sono sempre dati poco discussi sui giornali ma importanti noi abbiamo in Italia in questo momento un 30% delle spese di condominio che non vengono pagate c'è persone che non hanno la possibilità di pagare le spese di condominio che mettono in crisi quindi tutti questi sistemi che diventano poi anche sistemi relazionali perché non è soltanto che tu non paghi la spesa di condominio se tu non paghi la spesa di condominio metti nei guai pure il tuo vicino di fronte col quale hai sempre avuto buoni rapporti adesso magari incomincio odiarti no? c'è tutto quel tipo di relazione di istituzione che in qualche modo fanno fare le cose insieme vengono semplicemente massacrate dal continuare a portare avanti delle politiche che vanno in una direzione sbagliata allora in questo quadro che è un quadro che ho cercato di tenere il più possibile come dire sul presente noi possiamo io potrei adesso dedicare quest'ultima parte della mia discussione a due diverse strade una è di tipo come dire più storico culturale ve l'accendo brevemente ci siamo tutti posti il problema del come mai questi assetti istituzionali non funzionino nella direzione di difendere i beni di tutti com'è possibile che in tutto l'occidente non soltanto in Italia esista questo vero e proprio sbilanciamento costituzionale per cui è facilissimo passare dal pubblico al privato le privatizzazioni avvengono in modo automatico semiautomatico e tornare indietro è quasi impossibile io ho gestito personalmente la ritrasformazione dell'acquedotto di Napoli da S.P.A. in azienda speciale di diritto pubblico due anni della mia vita la sto facendo ancora adesso e vi assicuro che non esiste nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di fare una trasformazione che sarebbe semplicissima qualora fosse la trasformazione di un soggetto pubblico in società per azioni privata tornare indietro abbiamo dovuto inventarci il diritto abbiamo dovuto fare le cose da matti per trovare le interpretazioni evolutive per applicare direttamente i principi costituzionali per trovare un notaio che lo facesse perché la camera di commercio lo riconoscesse perché in qualche modo non scattassero tutta una serie di anticorpi che il nostro sistema giuridico ormai ha sviluppato nei confronti dell'inversione di rotta il nostro diritto ha sviluppato una serie di anticorpi e rende queste cose difficilissime e rendendole difficilissime che cosa succede che una maggior parte dei sindaci del paese pur persone magari assolutamente consapevoli di queste cose non vogliono correre dei rischi non vogliono correre dei rischi non lo possono fare o non se la sentono di correre dei rischi e cosa succede? che quindi piuttosto che correre il rischio dico vabbè provo nell'altro modo provo il punto di minore resistenza ma il punto di minore resistenza è sempre la logica della privatizzazione questo è il problema del nostro diritto e allora questo problema è un problema che radici profondissimi ed è la natura per così dire estrattiva del diritto borghese in altre parole quando dico diritto borghese non intendo muovere una critica da posizione leninista nessuna paura intendo chiamarlo diritto borghese come viene normalmente conosciuto negli studi degli studi della storia del diritto in tutto il paese anche altrove cioè la giuridicità borghese ossia il codice napoleonico per intenderci che pone al centro la proprietà privata come diritto di godere di disporre nel modo più pieno da un lato e la visione della modernità statalista quella che nasce con Machiavelli Jean Baudin e Hobbes che vede lo stato come sovrano l'idea della sovranità sono due concezioni giuridiche caratterizzate da due aspetti molto come dire importanti da un lato l'idea fondamentale della mancanza di qualunque limite il proprietario può fare tutto quello che vuole no? l'abutendi i romani parlavano di diritto di abusare la mancanza di ogni limite il sovrano a sua volta può fare tutto quello che vuole non ha limite la sovranità è piena no? è assoluta assoluta significa libera non legata ecco questa mancanza di limite è un primo punto molto importante che noi oggi dobbiamo per forza ridiscutere e il secondo punto altrettanto importante che tutte e due queste istituzioni tanto la proprietà privata quanto la sovranità pubblica sono istituzioni dell'esclusione e della concentrazione del potere il privato il proprietario privato vuole il potere nelle mani sue questa è casa mia io faccio quello che voglio e quello che voglio l'essenza della proprietà privata cos'è? l'esclusione stai via di qui vattene la casa mia keep off the grass no? no trespass cioè questa visione sostanzialmente per cui il potere sta nelle mani del proprietario che esclude che a sua volta è la stessa identica teoria dell'assolutezza della sovranità lo stato cosa fa nei suoi confini? esclude chi esclude? esclude l'ingerenza degli altri stati prima di tutto esclude l'ingerenza degli altri stati ma esclude anche chi non è cittadino no? la cittadinanza come esclusione tu non sei cittadino e quindi non ti ammette qui abbiamo in sala Costanza Margiotta che ha appena scritto un libro bellissimo sulla cittadinanza europea e chi vuole leggerlo fa una cosa veramente importante ecco questa visione dell'esclusione e della concentrazione del potere pervade il nostro intero ordinamento giuridico ed è però basata ed è però basata su assunti che non sono più veri voi sentirete probabilmente parlare Latouche che parlerà questa sera o domani non mi ricordo quando è e parlerà esattamente di questo no? la scoperta del limite la scoperta del limite in un paese in un pianeta ha risorse limitate è impossibile organizzarsi assumendo la mancanza di limite credere nell'assolutezza del potere nell'illimitatezza delle possibilità è un delirio di onnipotenza che rasenta la follia che rasenta la follia oggi abbiamo tutti gli elementi per sapere benissimo che noi dobbiamo elaborare un'economia fondata sul limite e anche un sistema giuridico capace di organizzare degli assetti istituzionali che limitano che non possono più partire dall'idea che tutto che tutto è assolutamente possibile allora questi assetti istituzionali profondi che sono degli assetti molto antichi oggi ci troviamo a doverli ridiscutere dobbiamo in altre parole creare delle istituzioni che siano che abbiano una natura come è stato detto da una importantissima studiosa americana che si chiama che ha scritto un libro che si chiama un libro bello dell'anno scorso che si chiama essere padroni del nostro futuro noi dobbiamo sostanzialmente creare delle istituzioni che non siano più di natura estrattiva cioè che non abbiano più come scopo soltanto quello di estrarre valore dalla natura dall'ambiente e dalle persone quindi istituzioni di sfruttamento di estrazione e dobbiamo invece costruire delle istituzioni che siano di natura generativa ossia istituzioni che come ho detto nel titolo di questa chiacchierata favoriscano lo stare insieme costruiscano ricostruiscano ripongano al centro non quel Robinson contro il quale già si era scagliato Marx quando parlava di Robinsonate non quella visione dell'individuo solipsista dotato di diritti in preda al narcisismo al delirio di onnipotenza che poi tipicamente è il soggetto abbiente borghese maschile della nostra società ma che pongano nuovamente al centro la capacità di generare relazioni rapporti ambiti di cura ossia istituzioni che effettivamente favoriscano il fare delle cose insieme l'essere insieme più che l'avere più che l'avere individualmente e questo è una grande è un grande cambiamento teorico sul quale dobbiamo certamente lavorare ed è un grande piano di ricerca non lo può fare uno studioso da solo non lo può fare neanche una scuola da sola non lo possono neanche fare tutti i giuristi del paese da soli deve essere qualche cosa che passa attraverso la concezione di un dato molto importante che è quello che il diritto siamo noi no? la giuridicità non è qualche cosa che sta una specie di gabbia di principi esterni astratti che ogni tanto ci come dire ci condizionano ma che stanno lì no? una specie di out there no? direbbero gli americani no? il diritto è un costante processo di costruzione del modo attraverso il quale una collettività si dà le sue regole ok? la collettività si dà le sue regole attraverso processi di partecipazione processi di inclusione dialettiche conflitti attraverso tutta una serie molto complessa di rapporti che possono essere studiati solo fino a un certo punto dal giurista ma che richiedono invece anche l'expertise per esempio dell'antropologo no? qui siamo in un festival di antropologia è molto chiaro che lo studio del diritto all'interno delle gabbie teoriche del diritto da solo è un esercizio del tutto astratto e poco interessante molto più importante invece uno studio indisciplinato del diritto uno studio che esce dalla limiti della disciplina giuridica e si apre ad esperienze ad esperienze differenti questi sono diciamo dal punto di vista teorico i lavori necessari dal punto di vista pratico vado a chiusura perché voglio lasciare due minuti per qualche domanda poi sono sempre molto logorroico ma dal punto di vista pratico io credo che sia necessario e oggi ce ne siano moltissimi in giro che vogliono elaborare una specie di catalogo di buone pratiche giuridiche costituenti capaci di produrre questa giuridicità nuova di cui stiamo parlando e ce ne sono moltissime non soltanto in Italia ma anche all'estero sono tutti luoghi nei quali le collettività che cercano di prendere una rotta differente rispetto a questa sorta di folle corsa non si sa verso dove che chiamiamo progresso crescita sviluppo uscita dalla crisi il disco basta accendere la televisione queste chiacchiere si sentono costantemente ecco gruppi che si misurano sul che cosa stiamo facendo dove stiamo andando come possiamo riconsegnare alla futura generazione un mondo non troppo peggiore di quello che abbiamo ricevuto dalla generazione passata insomma questo tipo di organizzazioni si stanno dando molto spesso regole e queste regole sono il DNA delle nuove istituzioni generative noi dobbiamo capire come possano funzionare delle istituzioni che si allontanino dallo schema della proprietà privata azionaria per cui quando io siedo in un consiglio di amministrazione di un SPA il suo obbligo è quello di massimizzare il profitto punto quello deve fare può essere anche un sant'uomo ma quello deve fare noi dobbiamo costruire invece dei luoghi dei consigli di amministrazione degli assetti istituzionali nei quali chi siede lì non ha l'obbligo di estrazione di breve periodo ma l'obbligo di socializzazione di beni comuni ha l'obbligo di cura e di generazione degli interessi e dobbiamo soprattutto inventare dei modi di controllare dal punto di vista istituzionale che questo obbligo venga portato avanti in modo serio e concreto perché vedete l'obbligo di far profitti a una grande agenzia di controllo che funziona benissimo che è il mercato per cui se tu sei un bravo amministratore fai un sacco di soldi viceversa l'obbligo di cura l'obbligo di occuparsi degli altri l'obbligo di costruire comunità non ha il mercato come agenzia di controllo ma la mancanza del mercato come agenzia di controllo non significa che non possiamo costruire delle agenzie di controllo immaginare delle matrici dei beni comuni immaginare dei modi di verificare che il pubblico non sia più visto come il posto in cui metti a posto il cugino scemo dell'onorevole ma diventi un posto nel quale invece vale veramente la pena di investire grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie.